Qual è l'eredità artistica? L'eredità artistica di mio padre? Mi piace spiegare l'evoluzione che ha percorso la sua attività da quando faceva le nature morte negli anni 50 e ogni periodo cambiava, attraverso un filo rosso cambiava le sue opere passando dalla ceramica alla scultura all'oro, agli arazzi e questo diciamo che mi ha sempre impressionato come riusciva a cambiare continuamente il suo stile giungendo fino a delle opere fatte col frullatore perché le ultime opere le frullava nel frullatore perché non sono dipinte sono fatte con un impasto di terra e di colla e poi appiccicate sulla carta Lino Barone nella spiegazione che ha aperto questa mostra parla non di eclettismo ma di poliedratità Sì esatto, quello che volevo spiegare appunto che non è stato un artista che ha sempre fatto le stesse cose per tutta la vita ma ha sempre avuto un'evoluzione notevole passando da un soggetto a un altro, da una materia all'altra e quindi questa è stata la sua bellezza Grazie